La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno, ben trovati alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino in apertura, avanti con le idee di Silvio. Forza Italia conferma le scelte di Berlusconi, Tajani seguiremo la sua linea, la famiglia chiede continuità. Oggi funerali di Stato a Milano con Battarella, il governo e tre ex premier ad Arcore sfila il popolo del Cavaliere. Centro pagina l'intervista a Mara Carfagna, generoso e geniale in politica grazie a lui. Poi il ricordo di Apicella amava Napoli, d'estate suonavamo le canzoni scritte insieme. Rimaniamo sul centro pagina, abuso d'ufficio e intercettazioni, via la riforma, la svolta in omaggio al Cavaliere. Domani il disegno di legge in Consiglio dei Ministri. Di taglio basso, nisida, se la realtà non è una fiction, l'evasione è tentata da tre giovani detenuti, qui non è mare fuori. E poi McCarty, il narratore dell'America, addio allo scrittore 89enne, il passeggero, l'ultimo suo romanzo. Con il malincomico Nuti salutiamo gli anni 80, la morte dell'attore e la fine di un'epoca. E poi torniamo sul centro pagina. Malore improvviso, aveva 76 anni, la scomparsa di Flavia Prodi, il prof, un dolore enorme. Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è morta per un malore a 76 anni, mentre era in cammino con il marito e gli altri amici su un sentiero francescano in Umbria. Questa era la prima pagina del mattino. Andiamo a vedere in primo piano l'addio a Berlusconi, Orban, gli ex premier e tutto il governo ai funerali in Duomo. Maxi Schermi in piazza, attese 15.000 persone, le dirette in tv, presente Schlein, non conte polemiche sul lutto nazionale. L'Italia si ferma per l'ultimo saluto all'uomo che ha cambiato la politica, lo sport, la televisione, l'imprenditoria. Alle 15 nel Duomo di Milano saranno ufficiati i funerali di Silvio Berlusconi in una giornata di lutto nazionale. Nella piazza più importante di Milano potranno trovare posto in 15.000. Il fedetro si fermerà a pochi minuti alle 14.50 per essere trasportato poi all'interno del Duomo dove entreranno in 2.000 tra familiari, amici, leader politici, autorità italiane e straniere. Ci saranno due maxi Schermi per consentire a chi è fuori di seguire il funerale a partire dalle ore 15. L'addio a Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio, fondatore di Forza Italia e di un impero televisivo che ha segnato la storia del paese, richiederà anche notevole attenzione sul fronte delle misure di sicurezza. Per questo l'accesso alla piazza sarà controllato con molto scrupolo. E andiamo avanti, cambiamo pagina. La famiglia, la regia resta a Marina, asse politico con Meloni. Pier Silvio chiede continuità. La Ft la definì. L'erede apparente è stata lei a sminare la strada del nuovo governo. La lettera del figlio ai dipendenti, seguire l'impronta di mio padre. Per forza di cose la principessa di ferro sarà regina. Dopo anni passati a consigliare Silvio, come sostiene lei, oppure a indirizzarlo nei momenti più difficili. Come invece dicono gli altri, Marina Berlusconi è destinata a prendere il comando. E non solo perché nella selva di Delfini, più o meno senza quid, ha sempre giganteggiato, pur restando sobriamente nelle retrovie, quanto perché è la sola in grado di garantire la preziosa stabilità di cui hanno bisogno oggi famiglia, azienda e partito. Una sfida per cui la primogenita si prepara da tempo facendo da scudo agli interessi berlusconiani con le sue interviste giustizia Covid-Ucraina, ad esempio guidando senza troppe ideologie mondadori e costruendo una squadra a cui, nel rispetto dello stile tenuto fino a questo momento, non alcuna intenzione di fare ombra, con una semplice successione dinastica. La prima linea forzista costituita da Marta Fascine e Antonio Tajani è sì il risultato di un'alchimia del berlusconismo che fu e di quello che sarà. Ma è soprattutto un'intuizione con cui Marina intende aggirare lo spettro di una cancel culture che è convinta cancellerebbe volentieri e in fretta le tracce del Cavaliere. Rimaniamo ancora sul mattino, andiamo a vedere gli equilibri nel centro-destra e Giorgia rinvia l'OPA, no ai cambi di casacca. Timori nel governo per la possibile uscita di parlamentari da Forza Italia, il Premier vuole limitare la diaspora, ogni cambiamento sarà concordato. Il vero timore per l'esecutivo, ora è solamente uno, che Forza Italia non sappia trasformarsi e finisca con l'implodere, cioè nelle parole di chi ha contribuito a usare il bilancino per la creazione della squadra meloniana che il disperdersi tra mille rivoli dei 63 parlamentari azzurri che faccia venire meno la serenità d'aula e porti ad un logoramento della maggioranza. Oggi è la teoria forte tra i fedelissimi della Premier Giorgia Meloni, c'è stabilità perché siamo insieme e perché l'ampio orizzonte della legislatura è una garanzia per tutti gli eletti. Andiamo a vedere la giustizia, limiti alle intercettazioni e stop all'abuso d'ufficio, la riforma in omaggio al Cavaliere. Dopo gli annunci e una lunga trattativa, domani il DDL verrà approvato in Consiglio dei Ministri. Il testo contiene molti degli interventi considerati indispensabili dall'ex Premier. Su una cosa tutti concordano nella maggioranza sarà una riforma nel nome di Silvio, nel senso che il testo che verrà portato domani pomeriggi in Consiglio dei Ministri conterrà molti degli interventi che Berlusconi ha sempre ritenuto indispensabili per cambiare la giustizia italiana, a cominciare da un pacchetto di modifiche per orientare in senso più garantista il processo penale fino all'annunciata stretta alla diffusione delle intercettazioni. E poi l'addio definitivo all'abuso d'ufficio, un reato che opinione condivisa nel centro-destra ha finito per paralizzare l'attività delle amministrazioni locali. i testi a cui da settimane lavora il guardasigilli Carlo Nordio insieme ai sottosegretari e tecnici di Via Renola. Sono pronti. Nelle scorse ore è arrivato l'ok alle ultime limature da parte degli uffici legislativi del Ministero. Andiamo avanti, rimaniamo sempre sul mattino. e andiamo all'estero. Il Ministro della Difesa ha i ferri corti con Putin. Lo Tsar attacca i generali. Il video del Presidente che dà le spalle a Soigu durante la visita ad un ospedale. Anche il capo della Wagner prende di mira il numero uno delle truppe sarà decapitato. Andiamo a vedere. Noi della Wagner non baciamo i piedi a Soigu lo ci vuole distruggere e ci ha provato due volte in Siria e a Bakhmud. Soigu e Gerasimov siete dei traditori e verrete fucilati. Parole più dure delle pallottole quelle che il capo dei mercenari della Wagner ex oligarca del catering e chef di Putin poi diventato signore della guerra riserva ai vertici militari in uno degli ultimi video postati nel suo canale Telegram. Verrete fucilati dice nella traduzione di un commendatore ucraino l'imbettiva è scagliata all'apice di una raffica di accuse pesantissime che partono dal rifiuto di firmare il contratto che il Ministero della Difesa ha imposto ai cosiddetti distaccamenti d'assalto volontari per integrarli e riportarli sotto il controllo nell'esercito regolare. Finora hanno firmato otto organizzazioni ma non la più importante la Wagner. Lasciamo con questo il mattino e andiamo su cronache. In apertura il pacco Aurelio De Laurenti stiene sulle spine Sousa per risparmiare sulla eventuale recessione offrirà qualche soldo in più per dia e cerca di commissariare la Salernitana offrendo Benitez che nemmeno lui vuole Iervolino tace ma è pronto all'offensiva. Di lato si parla di Aeroporto un progetto all'avanguardia ecosostenibile interventi ben avviati. Spostiamoci sul centro pagina oggi i funerali di Berlusconi polemiche per il lutto nazionale il fango degli invidiosi non frena l'ondata di affetto per Silvio Roscigno spazio dedicato al cavaliere il ricordo di Malandrino. La festa a Salerno la statua linea torna alla chiesa di Sant'Anne riconsegnata alla comunità di Canalone. Di Taglio Basso a Pagani la cronaca a Banca Rutta a otto indagati c'è anche l'ex sindaco Angelo Grillo e a San Cipriano abuso d'ufficio archiviazione per Alfano e Sica. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per un po' di pubblicità diamo la linea alla regia. Rieccoci di nuovo in studio ben ritrovati riprendiamo la rassegna stampa con il mattino di Salerno in apertura aeroporto il paesaggio dentro. Ecco il progetto di ampliamento e il terminal sarà pronto nel 2026 dopo lo start l'anno venturo. Barbieri manager di Gesac Napoli e al massimo Salerno è fondamentale per il turismo. L'affondo del governatore sulle opere in città e De Luca ne ha per tutti degrado interventi ridicoli volete la rissa. Poi di lato la sentenza pilota i prof precari hanno diritto alla carta da 500 euro. Docenti di ruole precari messi sullo stesso piano il tribunale del lavoro di Salerno riconosce anche agli insegnanti precari il diritto di avere la carta docente ovvero il bonus annuale di 500 euro introdotto introdotto nel 2015 dal governo Renzi con la regge della buona scuola da spendere in formazione e aggiornamento professionale. Spostiamoci sul centro pagina con lo sport di a riscattato telenovela Sosa il bomber sarà ceduto in caso di offerte superiori a 25 milioni. Poi la morte di Berlusconi Forza Italia avanti con più impegno anche dopo Silvio gli azzurri salernitani tra dolore e un futuro incerto lavoreremo per consolidarci ancora sul territorio. Di lato la cronaca abusi sessuali sulla paziente ruggi primario a processo e poi picchiato a 18 anni nella movida la madre nessuno lo ha aiutato. Lasciamo la prima pagina e andiamo a vedere in primo piano la morte di Berlusconi gli azzurri salernitani tra dolore e timori ma noi avanti uniti ce l'hanno lavoreremo con più impegno per consolidare Forza Italia sul territorio ora c'è il rischio del rompete le righe pastore no è una grande comunità politica il giorno dopo la morte di Berlusconi e quello del lutto in cui è prematuro dire qualsiasi cosa in casa degli azzurri si continua a mantenere il massimo riservo oltre che un cauto ottimismo rinviando ai prossimi giorni qualsiasi commento valutazione sul futuro del partito nonostante ci sia già chi fa proprio tra i fondatori di Forza Italia si dice pronto a scommettere che è morto il suo leader finirà anche il partito adesso è il momento del dolore per la dipartita del presidente prematuro parlare di ogni cosa si limita a dire Costabile Spinelli già consigliere provinciale uno dei quattro coordinatori provinciali del partito nella squadra azzurra voluta dal coordinatore regionale Fulvio Martuscello ci sono anche l'europarlamentare Lucia Vuolo il consigliere provinciale Giuseppe Roberto e Francesco Pastore oltre ai due europarlamentari Isabella Di Nolfi e il consigliere comunale di Salerno Roberto Celano lasciamo questa pagina cambiamo pagina andiamo avanti la cronaca da Agropoli picchiato dal branco nella movida la madre nessuno lo ha aiutato un ragazzo poco più che 18enne aggredito dal branco nella movida è un fatto gravissimo quello accaduto sabato sera in pieno centro cittadino ad Agropoli un giovane residente a ridosso di piazza della mercanzia zona della città solitamente scelta dai giovani per il divertimento selare e notturno è stato aggredito da un gruppo di coetanei mio figlio dice la mamma è rimasto vittima di un agguato davanti casa alcuni ragazzi lo hanno aspettato per picchiarlo sotto gli occhi di centinaia di persone nessuno è intervenuto in suo aiuto Atena Lucana minori migranti fuggiti dalla comunità allontanamento volontario per due minorenni ospiti di una struttura per migranti ad Atena Lucana l'azione dei due sta facendo vivere momenti di preoccupazione alla comunità e all'amministrazione guidata da Luigi Vertucci in quanto i due giovani di 16 e 17 anni si sono allontanati da una comunità alloggio per minori senza lasciare tracce da diversi giorni Camerota Mingardina il costone cede ancora è allarme ancora una frana sulla Mingardina ieri mattina un crollo si è verificato dal costone roccioso che sovrasta l'importante strada tra i comuni di Centola e Camerota dopo l'allarme fatto scattare da alcuni automobilisti sul posto sono arrivati i carabinieri l'ennesimo episodio che mette a nudo la fragilità del territorio Giffoni sei casali rissa per gelosia messa alla prova per 18 ragazzini fu una vera e propria spedizione punitiva contro un presunto rivale in amore al termine della furibonda lite per motivi di gelosia che vide due gruppi contrapposti un sedicenne fu trovato a terra in via Europa a Giffoni sei casali in una pozza di sangue colpito alla testa con una mazza da baseball nel bel mezzo della mischia ieri davanti al GIP del Tribunale per minorenni di Salerno è stata disposta la messa alla prova per 18 ragazzini quasi tutti residenti nel centro picentino o comuni limitrofi e provenienti da famiglie tranquille andiamo a battipaglia incompiuta vicino alla villa comunale dal Tar arriva l'ok al completamento poi topi di appartamento scatenati nuovo colpo ad eboli appartamento svaliggiato il furto è stato messo a segno lunedì sera in una casa a ridosso della statale 19 i ladri sono riusciti a impossessarsi di denaro e oggetti di valore a Ponte Cagnano Faiano vigili urbani il sindaco si affida a Vecchione e lasciamo il mattino ci spostiamo su cronache in primo piano aeroporto un progetto all'avanguardia ecosostenibile interventi ben avviati un progetto all'avanguardia ecosostenibile che crea una connessione con il passaggio con il paesaggio si può riassumere così il nuovo progetto di ampliamento dell'aeroporto Salerno Costa Damalfi presentato ieri al teatro Augusteo di Salerno ad opera dello studio di architettura Atelier primo in classifica su 13 società italiane e internazionali il gruppo capitanato da DIRNS si era aggiudicato la gara per l'espansione dell'aeroporto Costa Damalfi nel gennaio del 2022 tre gli interventi programmati il nuovo terminal che si svilupperà su due piani su due piani fuori e un piano interrato poi l'area parcheggio e accesso all'aeroporto e un edificio polifunzionale di circa 2000 metri quadrati cambiamo pagina sempre qui su cronache alta velocità nel caos adesso spuntano varianti al progetto il progetto dell'alta velocità il cui tracciato è osteggiato dall'amministrazione comunale di Ebole da una buona parte del territorio in relazione agli annunciati atti di esproprio ora presenta delle varianti al progetto stesso che sono state annunciate con un avviso dall'ente comunale si tratta di varianti al progetto di fattibilità tecnica ed economica gli interessati hanno ora 30 giorni per visionare i progetti e fare le proprie osservazioni peste suina parco c'è il commissario all'emergenza interventi per la tutela delle aziende fa sempre più paura la peste suina africana che sta colpendo i cinghiali della provincia di Salerno il presidente del parco Giuseppe Coccorullo incontrerà nei prossimi giorni il commissario straordinario alla peste suina africana Vincenzo Caputo per sottoporre la particolare situazione che si sta vivendo nei territori dichiarati zona rossa in particolar modo per evidenziare le gravi ripercussioni al settore zootecnico suinicolo alla riunione parteciperanno anche i sindaci dei comuni coinvolti che al momento sono limitati al Vallo di Diano ma qualche traccia del virus si sta iniziando a trovare anche in altre zone della provincia come la Valle del Sele o il Cilento e termina qui la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione